Ciao a tutti, sono Degora e loro sono Emma e Emma. Emma l'ho trovata un anno e mezzo fa in un bosco che era completamente immobile, ferita, quindi l'ho caricata in macchina e l'ho portata a casa con noi. Dal giorno dopo, insieme a un veterinario, abbiamo provveduto a lei per curarla e dopo, poco prima di Natale, lei ha iniziato a camminare e si è rimessa in piedi. Emma era veramente sottopeso, molto denutrita, quindi le abbiamo dato molto da mangiare, però vedevamo che questa pancia continuava a crescere tanto e ci siamo accorti che era incinta. A marzo è nata Martina ed sono rimaste per altri tre mesi con me. Adesso Emma e Martina sono felici all'interno di un rifugio e insieme ad altre pecore, quindi hanno il loro gruppo di amiche, di amici, di amiche. E per me è sempre una grande soddisfazione curare, salvare, poter salvare un animale, quindi fatelo anche voi.